Allora, vi ricordate l'operazione di via Ravizza che avevo avviato alcuni mesi fa? Era l'appartamento dove avevano sbagliato, la ditta aveva sbagliato il colore degli infissi e quindi c'era stato qualche rallentamento. Allora, ci sono alcune novità su quest'operazione, quindi sigla e vi racconto subito cosa è successo negli ultimi giorni. Alberto Papa, bentornati. Allora, siamo a parlare di uno degli investimenti che avevo avviato negli scorsi mesi. Vi ricordate il monolocale in via Ravizza che è catastalmente un seminterrato, in realtà è solamente mezzo metro o poco più sotto il livello della strada ed era molto interessante perché è stata un'operazione di cambio d'uso da ufficio ad appartamento. L'operazione è stata non immediata, nel senso che c'è stata qualche piccola complessità, ma siamo riusciti a raggiungere quello che era l'obiettivo primario, che era il cambio d'uso e la sistemazione per quanto era possibile di farlo il più possibile accogliente al pari di un appartamento. Allora, tra l'altro c'era stato anche qualche problema, vi ricordate, per quanto riguarda gli infissi, perché la ditta era venuta a rilevare il colore degli infissi ormai in tarda serata, quindi aveva sbagliato il colore, non c'era abbastanza luce e quindi la cosa era diventata tragicomica per quanto riguarda gli infissi. Però, allora, ci sono alcune novità riguardante il fatto che all'incirca tre giorni fa è arrivata una proposta di acquisto, un'ottima proposta di acquisto del valore di 165.000 euro. La proposta è condizionata al mutuo, quindi non è un'offerta vincolante per adesso, non è un'offerta sicura, ma se dovesse essere confermata potrebbe essere un'ottima notizia, non solo per me, ma per tutti gli associati che hanno partecipato su quest'operazione di Via Ravizza, a cui tenevo moltissimo. Ricordate che l'ho acquistata alcuni mesi fa a 77-78.000 euro, qualcosa del genere, e quindi sicuramente vorrebbe dire aver realizzato un ottimo, un ottimo utile. Quindi aspettiamo ancora qualche giorno per avere l'esito della, per avere la delibera bancaria per l'esito del mutuo, e dopodiché sicuramente posso darvi un quadro più definito di quella che potrebbe comunque essere una super operazione che è andata molto bene, ecco, se fosse confermata. Quindi per adesso è tutto, vi lascio ai prossimi video. Ricordatevi di seguire i miei prossimi su YouTube, Facebook e Instagram, che sono i canali dove normalmente pubblico i miei video, i miei aggiornamenti sulle operazioni immobiliari che porto avanti, che sviluppo per me e per i miei associati che vogliono con me fare le operazioni. Quindi per oggi è tutto, godetevi questa splendida giornata, questo weekend fantastico di sole. Alla prossima, ciao!